L'edizione 2020 del premio Davide Donatello quest'anno con il coronavirus, con questo dramma che incombe sulla nostra società e su tutto il mondo, ha avuto un sapore particolare. Forse per la prima volta mi ha emozionato di più degli altri anni, invece della solita cerimonia pomposa e celebrata, questa volta è stata quasi una manifestazione di resistenza, di forza e di coraggio e quindi il fatto della distanza sociale, il fatto che Conti era da solo in questo immenso salone e tutti si collegavano con lui ha dato un sapore diverso, ha dato veramente un sapore di trincea che fa capire come il cinema vuole risorgere e darsi da fare. Ci daremo da fare e risorgeremo. Per il momento faccio una breve analisi dei cinque film finalisti che sono stati il primo re, l'apparenza dei bambini, il traditore, Martin Eden e Pinocchio. Tutti questi cinque film hanno una caratteristica particolare, sicuramente quattro di loro sono dei film sulla conoscenza, sul cercare di sapere, sul capire. Tant'è vero che Martin Eden è uno che parte per questo viaggio cercando di scoprire il mondo e di diventare scrittore. Pinocchio sappiamo tutti che da burattino di legno cerca di diventare bambino, quindi vagando per il mondo e facendo esperienza, cercando di capire e cercando di scoprire, diciamo così, una cifra in umanità. Il primo re è un film che parla dell'origine di Roma, quando ancora il Lazio era una terra selvaggia, una terra dove gli dèi erano incombenti, erano sopra di loro e quindi muoversi e credere di poter creare qualcosa era davvero un'impresa straordinaria dell'epica. Il film racconta proprio questa storia con l'amore fra i due fratelli e poi a un certo punto non il più forte, ma il più saggio è colui che vince, cioè colui che con la sapienza, con la conoscenza, riesce a superare gli ostacoli e riesce a superare persino l'amore del fratello. Il traditore è l'uomo d'onore che incontrando un grande magistrato, Giovanni Falcone, riesce a sapere che esiste qualcosa al di là della mafia, al di là di cosa nostra. e per la prima volta ha un'idea di giustizia, per la prima volta sa che si può fare qualcos'altro. L'apparenza dei bambini invece è come se ogni volta che qualcuno sa e conosce, in realtà la conoscenza è un sacrificio e quindi porta anche una forma di solitudine. Infatti tutti i protagonisti dei film che ha elencato il primo re rimane solo, diventa il re di Roma Romolo, ma rimane solo. e la stessa cosa accade per Martin Eden, che la sua coscienza e il valore del suo viaggio, quello che lui apprende, di nuovo lo porta alla solitudine. Pinocchio incredibilmente perde il fatto di essere un burlattino e diventa un bambino vero, e però per far questo perde la fatta trucchina. E la stessa cosa non può accadere per il traditore, perché Buscetta nel momento in cui si separa da Cosa Nostra è chiaro che diventa bersaglio della vendetta e del tradimento di tutti i suoi ex complici. Questa è la forza e il coraggio del film e anche la drammaticità e la rappresentazione. Mentre Nella paranza dei bambini, che è il film di Claudio Giovannesi, un film particolarmente interessante, questa solitudine non avviene e non avviene neanche la conoscenza. Il gruppo di ragazzi rimane unito e in questo rimanere unito, in questa forma di solidarietà, quasi quella di un greggio animale, chiaramente si scatena la violenza e quindi impedisce qualunque progresso. Al di là di tutto questo, se noi torniamo ai film, è chiaro che di questa rosa di film era abbastanza difficile dover decidere quale potrebbe essere il film migliore. Il film migliore in ogni modo è stato scelto con il traditore ed è, a mio giudizio, una scelta giusta, di grande qualità e di grande valore, ma tuttavia io ritengo che anche il primo re aveva il valore e aveva anche la scoperta, questa novità. Secondo me dovrebbe essere premiato questo coraggio, questa direzione nuova, questa epicità italiana, questo western nostro, perché in realtà è una specie di western, un mitologico western sotto certi aspetti, però molto più profondo e umorale. Ecco, doveva essere premiata, anche perché sicuramente a Marco Bellocchio, regista di grande qualità che conosciamo da tanto tempo del suo valore, è stato dato il premio come miglior regista. Quindi già questo giustamente poteva abbassare ed era giusto che gli fosse assegnato. ed è un valore perché questa tragedia della mafia, rappresentata come un grande dramma sociale, è molto importante, molto interessante ed era giusto che venisse qualificata. Proprio per questa ragione è anche stato estremamente giusto che il migliore attore sia stato Pier Francesco Favino, anche se c'erano altri attori interessanti. Secondo me Stephen Accorso ha fatto anche un'ottima interpretazione nella Della della Fortuna insieme a Eduardo Leo, che purtroppo non sono stati premiati. È stato premiato Pier Francesco Favino proprio per la statura del film e l'importanza sotto certi aspetti del personaggio. Per la sceneggiatura non originale è stato premiato Martin Eden, ed è giusto secondo me perché prendere il romanzo di Jack London e ambientarlo a Napoli e dargli questo sapore che attraverso il tempo, una storia eterna che non può essere datata a San Francisco negli Stati Uniti nella fine dell'Ottocento, ma invece è di sempre perché è un'evoluzione dell'anima umana e il coraggio di un giovane di affrontare la vita con le disperazioni, con l'amore e la mancanza dell'amore era una scelta molto particolare e secondo me è stato giusto che sia stato premiato. Il premio invece per la sceneggiatura originale è stato dato al traditore. Anche qui, pur riconoscendo il valore di questa sceneggiatura straordinaria, era anche giusto che fosse premiato un altro film. In questo caso io avrei preferito che fosse stato premiato La Della della Fortuna perché sinceramente era un film che meritava di essere in lizza e che meritava quindi proprio per lo svolgimento della sua storia una storia moderna, particolare, intelligente e diversa poteva essere molto molto più interessante e diciamoci la verità del grande, civile, importante film sulla mafia e sulla presa di coscienza ma che ormai abbiamo visto centinaia di volte senza nulla la togliere al valore del film di Bellocchio. Anche in questo caso è stato premiato il montaggio della Calvelli che tra l'altro è la moglie di Bellocchio che ha fatto un ottimo lavoro ma forse tutti questi premi in una sola direzione potrebbero essere secondo me perché il premio deve servire anche a stimolare delle forze nuove emergenti. È chiaro che bisogna rispettare e dare valore ai senatori del cinema italiano, assolutamente. Tanto è vero che un premio speciale è stato dato a Franca Valeri che è una straordinaria, ma dire attrice poco, è un'attrice, regista, autrice incredibile che compita cento anni e io che la conosco personalmente le auguro di arrivare a duecento proprio perché la sua intelligenza, la sua brillantezza, la sua comicità, il suo spirito, la sua originalità attraverso tutti questi anni è come se avesse seminato gioia e intelligenza nel cinema italiano. Un altro Davide particolarmente curioso di quest'anno nuovo è stato il Davide premio del pubblico che è stato dato al primo Natale di Ficarra e Piccone. Anche questo è un film che avevo già recensito e del quale avevo notato l'originalità e il fatto che Ficarra e Piccone sono in continua ascesa diventando sempre, diciamo così, più coscienti della loro comicità e quindi più capaci di esprimere questa gioia, questa solarità tipicamente siciliana che fa veramente bene al di là di tutte quante le solite comicità stereotipate. Un altro film interessante, poi parlando di questa specie di nuovi personaggi che si sono affacciati, è sicuramente Bangra, di cui ho fatto anche la recensione. È un film per gli italiani di seconda generazione, è un film curiosissimo, particolare, fatto con grande delicatezza, l'avevo già detto, è come se fosse un eccebombo dei nostri giorni, quindi quel sapore caustico di Moretti e quell'incanto e quello smarrimento tipico anche del personaggio di Faim, il regista che interpreta il film e che sembra un messiero contemporaneo, svagato e divertentissimo, un piccolo Woody Allen nostrano, De No Antri. Un altro importante premio è stato sicuramente il premio dato alla miglior attrice. Questo premio è stato meritatissimo a Jasmine Trinca per la Dea della Fortuna dove la Jasmine interpreta un personaggio non facile perché deve dare questa idea di una maternità allegra e anche un pochino disinvolta, ma in realtà invece profondamente radicata e vera. È tipico di una ragazza degli anni 70-80 ed è molto molto curiosa e precisa perché è così. Io ne ho conosciute diverse persone di questo tipo che portavano della gioia e dell'allegria e che poi improvvisamente si sono trovati di fronte a dei drammi della vita e che hanno saputo risolvere con una maniera incredibile di sincerità e quasi persino di allegria nonostante il dramma e nonostante il fatto che la morte fosse vicina. Quindi questo personaggio di Jasmine Trinca che è capace di dare un valore a questa sua breve esistenza e soprattutto a donare questo amore ai suoi due amici è molto molto interessante e Jasmine l'ha fatto con grande delicatezza e con grande forza. Sembrava quasi una Giovanna Rally di oggi proprio con quella stessa carica di umanità e di calore. Un altro premio è stato quello per la migliore attrice non protagonista che è stata Valeria Colino per una interpretazione molto interessante in questo strano film tratto da una graphic novel che si intitola Cinque numero perfetto. Valeria Colino è un'attrice straordinaria che non ha certo bisogno dei miei erodi e che conosco per la sua qualità e per il suo valore. Però sinceramente a parte che questo film Cinque numero perfetto è una specie di esperimento Valeria Colino secondo me non ha bisogno di avere un premio come migliore attrice non protagonista. I premi, come ho già detto prima, dovrebbero essere anche una forma di incitamento più che una forma di riconoscimento. Quindi Valeria ha meritato il premio, però a mio giudizio l'Accademia doveva assolutamente anche trovare fra le altre attrici, per esempio Maria Amato del Traditore, la possibilità di avere un premio, di dare un eseguo magari in modo da valorizzare anche altre persone, anche altri professionisti invece che sempre i soliti. Nel senso che era molto meglio premiare una giovane esordiente o qualcuno che magari come la Savino sono tanti anni che calca le scene e i set e avrebbe diritto ad avere un riconoscimento e un premio, senza togliere nulla il valore di Valeria. Fra gli attori non protagonisti, il premio è dato Luigi Locascio meritasamente perché ha fatto un'interpretazione straordinaria nel presaggio di Totò Ciotunno. Il premio per la migliore fotografia è stato dato, anche in questo caso ritengo giustamente, a Daniele Cipri per la splendida e incredibile fotografia del primo re. Era un film molto difficile da realizzare, fatto in condizioni ambientali molto particolari e dare la cupezza di questa atmosfera primitiva, dare questo senso della natura incombente, dare questa forza e questa solitudine attraverso questo gioco di chiaroscuri e questo gioco quasi come se il cielo fosse coperto e cercasse di schiacciare gli uomini i quali invece coraggiosamente reagiscono era molto molto interessante e devo dire che Daniele Cipri ha fatto un lavoro da grande maestro. Il premio per la migliore colonna sonora fra i tanti musicisti che erano in Lizza è stato dato secondo me a un musicista esordiente, un certo Wolfgang Amadeus Mozart perché è stata premiata l'orchestra di Piazza Vittorio che ha eseguito in un film il famoso Don Giovanni di Mozart e quindi di fronte a Mozart chiunque altro si è dovuto ritirare, persino Nicola Piovani perché a questo punto come fai a competere con un genio assoluto come Mozart? Il premio per la migliore canzone originale è stato da Che vita meravigliosa gli ho dato e a mio giudizio è un premio giustissimo e di grande valore perché arricchisce una scena particolare del film La Dea della Fortuna dando a tutti i personaggi una forma di ebbrezza, di capacità in quel momento di esseri vitali, di poter uscire da una specie di stasi e esplodere con gioia e questa musica ha accompagnato perfettamente questa scena e quindi a mio giudizio la meritava perfettamente. Poi vengono i premi più tecnici che sono quelli della scenografia, quelli degli effetti speciali, quelli dei costumi e del trucco e del parrucco. Tutti questi premi sono stati dati a Pinocchio hanno il sapore quasi di una forma di consolazione per il film soprattutto, non tanto per i professionisti che hanno fatto questi effetti e questi trucchi e questo lavoro che sono stati veramente molto bravi. Tuttavia c'era anche nel Primo Re uno straordinario effetto speciale di un'inondazione che secondo me doveva essere proprio riconosciuto, bisognava dargli il giusto valore perché è veramente una scena impressionante e interessantissima come è stata resa rispetto ai soliti effetti di Pinocchio che sono in questo caso quasi al limite del cartoon animato. E quindi anche i costumi, che sono per carità di grande effetto, in realtà poi sono sempre più o meno i soliti e hanno sempre più o meno i costumi che abbiamo sempre visto. il miglior film straniero è stato come per la musica, cioè anche in questo caso si è sparato sulla Croce Rossa perché il premio è stato dato a Parasite che aveva già quattro Oscar, ha preso premi dappertutto ed è un film assolutamente straordinario, intelligentissimo, però è giusto che sia stato dato questo premio a Parasite perché in realtà, come ho già detto altre volte, nella profondità di Parasite c'è un tocco italiano, c'è la commedia all'italiana, diciamo così, girata o cucinata in salsa coreana, ma in realtà lo spirito e il carattere è quello nostro e tutti coloro che hanno visto questo film lo riconosceranno. Il premio Davide Donatello è un premio importante perché sono sempre molto importanti i premi e quindi al di là di una corrente di pensiero di molti miei colleghi che hanno detto o dicono che i premi non servono a niente, in realtà i premi sono quel giusto riconoscimento che ognuno di noi professionisti ha diritto ad avere, che non è soltanto i soldi di un ingaggio o di uno stipendio, non è soltanto l'applauso che uno riceve, ma il premio è qualcosa che ti rimane, è qualcosa che ti fa capire che il lavoro che hai fatto è stato importante e che tutta quella tua fatica, le nottate, la paura, la disperazione, il coraggio non sono stati in vano perché hai questa statuetta, questo diploma, questo pezzo di carta, qualunque cosa sia che ogni tanto ti ricorda che il cinema sia ricordato di te. E questa è una cosa importante e bella e quindi è giusto che ci siano. A questo proposito vi racconto sempre il solito aneddoto con cui finisco ogni volta. È stata una volta in cui sono andato con la macchina della produzione, la macchina della produzione mi è venuta a prendere a casa perché era una serata importante, ricevevo un premio e quindi sono stato a questa proiezione e ci sono andato in questa proiezione che era in una manifestazione con allora con una fidanzata. Al ritorno dal film, dopo gli applausi, dopo il piccolo infesco, queste cose, quando siamo tornati a casa l'autista della produzione prima di saluto a me mi ha detto Dottor, abbiamo fatto un bel film, eh? La mia amica quando siamo scesi e ci siamo avviati per le scale si è stupita come l'autista si è permesso di dirti tu che sei lo sceneggiatore e regista avevamo fatto un bel film, ma lui che ha fatto? Io l'ho rimproverata perché si vedeva che non era una persona di cinema e non sapeva che invece la truppe è un vero e proprio esercito, una banda, cioè proprio la sporca dozzina lanciata all'assalto e tutti sono uniti e tutti sono legati, non c'è il divo sul set, non c'è il divo e l'ultima roda del carro, stiamo tutti insieme sempre e giustamente l'autista che aveva fatto il suo lavoro, che si era alzato la mattina presto era da prendere l'attore, l'aveva portato sul set, l'aveva aspettato, l'aveva riaccompagnato a casa, aveva fatto in modo che non si fermasse se era un attore americano a bere, che non aveva fatto in modo che gli evitasse se era uno che giocava di portarlo vicino a una sala corse, era uno che stava attento a non fargli prendere freddo, che lo riportava a casa dritto e preciso, che lo andava a prendere puntuale, era uno che aveva fatto il suo lavoro ed è giusto che fosse orgoglioso del suo lavoro e del film che aveva fatto, perché era un tassello importante esattamente come a me nella grande imparcatura del film. Perché il cinema, la cosa più bella di tutti è questo, siamo tutti uguali e tutti, come diceva un mio vecchio amico macchinista, diceva sempre Adotto stamattina ricominciamo a spingere il carretto, e su questo carretto è il carretto del carro di Tespi, in cui si aggiano figure e fantasmi, coriandoli e fontane luminose, oppure quando si spengono le luci il carretto rimane a noi e dobbiamo portarlo nel ricovero e custodirlo, perché appena si accendono le luci riusciamo di nuovo tutti fuori e tutti a spigne. Grazie. Grazie.